In difesi, incapaci ancora di distinguere la linea di demarcazione tra il bene e il male, parliamo dei minori, spesso vittime degli adulti, il cui percorso di crescita necessita di una particolare attenzione. Questi alcuni dei temi che saranno affrontati nel corso del convegno Tuteliamo, previsto venerdì 5 dicembre alle ore 17.30 al CEF Pass, un incontro inserito nell'ambito della rassegna culturale sui temi della salute e del benessere promossi dal CEF Pass, che si sposa nel contesto delle iniziative previste in occasione del 25esimo anniversario della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Tra gli interventi previsti è anche quello dell'assessore Mariella Lobello, assessore regionale alla formazione professionale e pubblica istruzione. Durante l'evento sarà proiettato il video dello spettacolo Vorrei essere me e saranno lette le poesie tratte dalla raccolta Era Farsi. Noi riteniamo che ci sia assolutamente un'attualità di questa problematica e l'abbiamo voluta affrontare insieme ad associazioni di volontariato, a istituzioni importanti come il carcere minorile e altre istituzioni anche locali. Partendo da un'esperienza, che è un'esperienza molto bella, molto positiva, che si è realizzata a Caltanissetta, quella di un laboratorio teatrale che ha visto protagonisti gli studenti di un istituto superiore del liceo classico Ruggero VII insieme ai ragazzi del minorile. Quindi un'esperienza, quella di un'espressione artistica, quella del teatro, però che si collega con una logica che secondo noi deve essere la logica nell'affrontare le problematiche dei minori, quella di sinergia tra istruzioni. Quindi è un'esperienza probabilmente pilota, però vuole dare anche un segnale che è quello che lavoriamo insieme per affrontare una problematica che non può essere affrontata soltanto dal punto di vista della devianza, non può essere affrontata soltanto dal punto di vista sociale o occupazionale, ma deve essere affrontata comprendendo che vi è una personalità in evoluzione. Il minore è una persona che sta crescendo, che vuole costruire un percorso di vita e noi dobbiamo sapere che la società deve accompagnarla in questo percorso. Prevenzione primaria e secondaria, interventi e percorsi di tutela nei confronti dei minori, dunque il filo conduttore della giornata che vedrà tra gli interventi anche l'esperienza portata avanti in questi anni dall'Associazione Essere per Essere. Grazie a tutti.